Un caro saluto ai nostri telespettatori, bentornati alla rubrica dalla parte del cittadino con l'Avvocato Risponde. In studio l'Avvocato Cristian Pavanni, rappresentante della Camera Avvocati di San Dona di Piave. Buongiorno. Affrontiamo oggi una domanda che in realtà è il sunto di varie domande che sono arrivate in redazione all'email che troverete in sovrimpressione. Parliamo infatti del pedone, delle tutele che sono state accordate al pedone e delle non tutele che sono accordate al pedone. Avvocato Pavanni, può farci un po' di chiarezza? Ok, intendiamo il pedone nell'ambito della circolazione stradale o la figura del pedone negli scacchi? Ovviamente negli scacchi, Avvocato. Ok. Invece io per dispetto parlerò della figura del pedone nella circolazione stradale. Beh, devo dire la verità, al di là della solita battutaccia che mi connota, che la figura del pedone, per utilizzare come dire un'espressione abbastanza lapalissiana, è una figura tutelata dal nostro ordinamento e diversamente non potrebbe essere. È soggetto debole nell'ambito della circolazione stradale. L'articolo del Codice della strada 190 e 191 rispettivamente prevedono e disciplinano quelli che sono i comportamenti reciproci tra pedone e conducente, dicendo che il pedone che si appresta ad attraversare entro le strisce pedonali la carreggiata, ha il diritto di precedenza nei confronti naturalmente dei mezzi che sopraggiungono, che devono concedere questa loro precedenza. Viceversa, il comma quinto dell'articolo 190 dice che qualora il pedone si accinga ad attraversare la carreggiata in una zona sprovvista di attraversamento pedonale, questi dovranno dare la precedenza ai veicoli. In realtà l'articolo 190, il quinto comma, è tendenzialmente norma temperata dall'articolo successivo, l'articolo 191 del Codice della strada, che in realtà dice che il conducente, naturalmente, quando vede un pedone fuori dagli attraversamento pedonale, che inizia ad attraversare la strada e deve tempestivamente rallentare e fermarsi per concedergli la precedenza. E soprattutto, quando sta attraversando un soggetto disabile, con problemi di motilità, con il cane da passeggio, sordo-muto, allora, in questo caso, il soggetto è tenuto sempre ad avere e garantire la precedenza. È chiaro, però, che la figura del pedone non può essere, a mio modesto avviso, una figura di tutela assoluta. È ovvio che c'è sempre un contemperamento, e cioè anche la diligenza o la mancata diligenza e perizia del soggetto che si è prestato ad andare ad attraversare la strada. Così, ad esempio, il ragazzo che ha appena ricevuto l'SMS da parte della ragazza cui anela l'amore da una vita e che gli dice stasera ci vediamo per un aperitivo mentre sta attraversando la strada, beh, io sono contento per questo ragazzo, ma dovrà comunque prestare attenzione ai mezzi che circolano se attraverserà fuori dalle strisce pedonali. E, d'altra parte, l'articolo 1127 del Codice Civile mi dice che, qualora vi sia un concorso colposo del creditore, in questo caso del pedone, perché è una norma in materia di obbligazioni, ma va, diciamo, mutuata nel campo del risarcimento del danno, in questo caso, questo concorre ad una limitazione del risarcimento del danno, ed è chiaro. E poi abbiamo l'articolo 2054, il primo comma, che mi dice che il conducente del veicolo che provi con un incidente nei confronti anche di un pedone, qualora provi di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, avrà una sorta di esclusione di responsabilità o perlomeno una limitazione, poi se ne andrà a discutere eventualmente. Questo, diciamo, è il profilo del nostro legislatore, il profilo legislativo, almeno un po' a volo d'uccello. Se però si va a vedere le sentenze della Cassazione, o comunque la giurisprudenza, ci si rende conto che questa visione contemperata, e tutto sommato anche corretta, viene un po' stravolta. Abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione, che è abbastanza, come dire, importante sotto un certo punto di vista, sicuramente discussa, del 2009, nella quale si è completamente stravolto il rapporto di responsabilità. E si dice addirittura che il pedone non è tenuto, prima di attraversare sulle strisce, ad accertarsi che i veicoli che sopraggiungono mostrino segni di rallentamento di frenata. In buona sostanza, si legittima ad essere negligente il pedone. Il pedone può bene attraversare sulle strisce pedonali, anche senza rendersi conto, con minima perizia o in assenza di completa perizia, che ci siano veicoli che sopraggiungono e che rallentano. Sta infatti al conducente dell'autoveicolo essere due volte dirigente, per se stesso, e per i soggetti che astrattamente potrebbero attraversare la strada sempre sulle strisce. Però in realtà si va anche oltre, perché una Cassazione successiva del 2014, penale, mi dice che il diritto di precedenza del pedone, precedenza dicevo, il quinto coma del 190 dice che il pedone, fuori dall'attraversamento pedonale, deve concedere la precedenza al veicolo. Sì, però la Cassazione penale dice, non è proprio vero, perché anche se il pedone attraversa la carreggiata in prossimità delle strisce, ma non dentro le strisce, è comunque tutelato e ha un diritto di precedenza, quindi deve essergli data la precedenza da parte del conducente del veicolo. Ora, che cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di prossimità delle strisce pedonali? 5 metri, 1 metro, 30 centimetri, 46 metri, non è dato saperlo. O meglio, è dato saperlo nella misura in cui conosciamo la discrezionalità del giudice, quindi praticamente impossibile. E poi c'è una sentenza successiva che mi dice che, sì, è vero che esiste questo 2054, primo coma, quasi con un senso di fastidio, per cui il conducente astrettamente potrebbe dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, quindi non è imputabile a lui. Ma dice, non basta dimostrare che il pedone non ha dato la precedenza fuori dagli attraversamenti pedonali, ma bisogna anche dimostrare che il pedone ha attraversato improvvisamente, senza dare nessun senso di predevedibilità, e che quindi in questo senso e solo in questo caso ci sarà una responsabilità dello stesso pedone, o meglio, una corresponsabilità. Quindi, in buona sostanza, il pedone è sicuramente figura di tutela, figura tutelata, figura tutelata dalla normativa, però se si dovesse andare in causa, la sua tutela sarà ancora più accentuata, almeno a leggere le ultime sentenze della Cassazione. Ringraziamo l'Avvocato Pavan, abbiamo capito che il quadro è abbastanza confusionale. Ringraziamo ancora l'Avvocato Pavan, un caro saluto ai nostri telespettatori, e alla prossima puntata è dalla parte del cittadino.